Shalom, Shalom, Shalom. Prima di iniziare questa lezione vorrei dare tutti i lodi, adorazioni e ringraziamento al Padre Onipotente Yehawah nel nome di suo figlio, il nostro re e rendentore Yehawah Shai, che in mondo dell'ignoranza chiama Gesù. I miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità e pace alla casa di Israele. Questa lezione sarebbe la considerazione a quello che abbiamo fatto ieri. Abbiamo iniziato a leggere le prime parabole che ha fatto il nostro Salvatore HaWashai. Dal libro di Matteo, capitolo 13. E questa è la seconda parabola, che è la zizania e i buon seme. Inizio leggendo dal versetto 24. Egli propose loro un'altra parabola dicendo, Il regno dei cieli può essere paragonato ad un uomo che aveva seminato buon seme nel campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizania in mezzo al grano e se ne andò. Beh, questo versetto, questi paio di versetti parlano della casa di Israele. Ok? L'uomo che aveva seminato è il padre quando aveva istituito il popolo di Israele. Ok? Il campo è la terra. Ok? E mentre noi ci facciamo portare, infatti, anzi per darvi più prove, che il padre non tratta con altre nazioni, tratta solamente con Israele. Perciò, questi semi, sta parlando di Israele, il campo e la terra. Andiamo a leggere dal libro di Salmi. Capitolo 147. 147, mi sa che in versetto, ecco, 19. Egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuiti e i suoi decreti a Israele. Egli non ha agito così con tutta la nazione e i suoi decreti non li conoscono. Alleluia. Perciò, i suoi decreti e statuiti, che sono i comandamenti, è Israele. Israele è l'unico popolo che il padre conosce e non ha fatto sapere nessuna di queste cose a altre nazioni. Ecco perché le altre nazioni vanno dietro a diverse cose, che noi figli di Israele non dovremmo partecipare. Ora torniamo alla parabola. Matteo 13. Eccoci qua. Il nemico è sempre il seme dei malvagi di che abbiamo parlato nel video precedente, che sono stati creati sempre da padre Yahawa. Ok, perdonatemi. E continuiamo a leggere. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizagna in mezzo al grano e se ne andò. Ok? Questo secondo me sta parlando, sta parlando proprio quando, sì, quando Eva ha mangiato dall'albero della conoscenza del bene e male, che alla fine non è che ha mangiato proprio un frutto da un albero, letteralmente. Quello, l'albero rappresentava le filosofie delle altre nazioni. Io dovrei fare una lezione sul libro di Genesi, che è molto importante, che aprirà molto più luce su, perdonatemi, per capire queste cose qua. Yahaw Bashem Yahaw Ashai, volendo, la prossima lezione potrebbe essere, sì, cerco di farlo essere sui libri di Genesi, almeno nel capitolo 1. Ok? Quindi Eva ha preso delle filosofie degli altri, ok? Che non doveva prendere queste filosofie. Sono le filosofie che stiamo soffrendo al giorno d'oggi. Le filosofie che portano alla morte, ok? Sono delle religioni. Queste filosofie qui, che un uomo può andare bene con un altro uomo, una donna può andare con un'altra donna. Il creatore non esiste, siamo noi i veri dei, bla bla bla. Sono delle filosofie che portano alla morte. Ed è quello che ha portato il nemico, ok? Per rovinare Israele. E una cosa che dovete capire, il popolo di Israele, Nella sua fase iniziale, era il popolo di Adam, di Adamo, ok? Che, sì, dovrei fare una lezione sul libro di Genesi, perciò abbiate già in mente questa cosa qua, poi ne tratteremo. Quando l'erba germoglio ed è stato fatto frutto, allora apparve anche la cesagna. E i servi del padrone di casa vennero a dargli, a dirgli, Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della cesagna? Allora, questa parabola riflette tutti i tempi dall'inizio, anche a dopo. E se vogliamo anche escludere l'inizio, che è il libro di Genesi, Possiamo anche partire da quando i comandamenti sono stati stabiliti da Mosè, ok? Sono stati stabiliti e poi tutto all'improvviso. I figli di Israele hanno cominciato a sviarsi di nuovo, ok? Andare dietro con queste filosofie qua. Perciò ci può anche stare, ok? Perché queste parabole sono davvero profonde. Parlano dall'inizio alla fine, ok? Egli disse loro, un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero, vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli risposte, no, affinché cogliendo la cesagna non sradicate, non sradicchiate assieme ad essa anche il grano. Lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura, dirò ai mietitore, cogliete prima la cesagna e legatela in fascia per bruciarla. Ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. E questo sarà la fine che faranno i malvagi, ok? Loro vanno avanti a portare avanti queste filosofie di morte, queste bugie qua. E hanno sviato un sacco di figli di Israele. Perché come leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 1, versetto 3, il bue conosce il suo capo, l'assino conosce la casa di suo capo, ma Israele no. Noi andiamo dietro a queste filosofie senza farci nessuna domanda. Queste filosofie sono le chiese, le religioni, ok? Se noi figli di Israele abbiamo comandamenti da osservare, dobbiamo cercare di osservarli al meglio della nostra capacità, ok? Cercare di osservarli e fare questi comandamenti al meglio della nostra capacità, pregare e seguire le cose che richiede il Padre, ok? Dobbiamo anche voler tanto con il nostro cuore il regno suo, perché questo regno che stiamo vivendo è corrotto, come vedete qua. Sono i grani con le zizanie, ok? Sono stati lasciati, infatti è quello che stiamo vivendo adesso, siamo stati lasciati con le zizanie. Le zizanie ci corrompono, ci fanno fare delle cose che non dovremmo fare, degli abomini. E come ho sempre detto, questo messaggio non è per tutti, non è per tutti perché pochi sono coloro che trovano, che troveranno la strada che porta alla vita, ok? Questa strada è stretta e sono tanti che troveranno la strada larga che porta alla perdizione, ok? Perciò se ti senti parte della casa di Israele, questo messaggio ti entra nel cuore e ti fa pensare che è la verità, la probabilità è sì, sei un'israelita e sei tra gli alletti, perché nemmeno nella casa di Israele saranno salvati tutti. Due tezzi saranno distrutti e un tezzo verrà salvato. Perdonatemi, cari fratelli e le poche sorelle che cercano la verità, ricordatevi che stiamo per entrare nei tempi davvero difficili che sono questi tempi qua che il padre verrà ad accogliere tutto, ok? La zizania, anche la casa di Israele farà parte della zizania. Coloro che hanno accettato le filosofie del mondo cercano proprio il proprio regno su questa terra qua, facendo le cose che non deve fare, ok? Faranno parte delle zizanie che verranno legati e bruciate, e bruciate, Perciò è molto è molto importante ok? È molto importante osservare questi questi comandamenti e amare il padre con 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 tutto il cuore e buttare via queste filosofie e dimenticare questi nomi sbagliati che il creatore non si chiama Dio, suo nome è Yahawa, il suo figlio non si chiama Gesù, suo nome è Yahawa Shai. Spero che questa breve lezione vi ha edificato Yahawa Hashem Yahawa Shai volendo domani farò una lezione sul primo capitolo del libro di Genesi ok? E detto questo vorrei dare tutti loro di ringraziamento al padre Yahawa nel nome di suo figlio Yahawa Shai e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità qua e Shalawam pace alla casa di Israele alla prossima